ciao a tutti io sono roxy ed eccomi tornata con un altro what I eat in a day in questa giornata per colazione mi sono fatta dei toast con queste uova strapazzate vegane a base di tofu che ho appena imparato a fare poi sopra ci ho messo dei pezzettini di avocado sale e pepe e me li sono pappati con il mio solito cappuccino dopodichè sono tornata in camera e ho lavorato un po al computer e finalmente vi posso dire che sto lavorando a un libro di ricettine per saperne di più vi lascio delle informazioni nella descrizione oppure potete controllare il mio patreon per merenda di mezza mattinata mi sono fatta dei cracker con l'hummus e poi mi sono messa a strimpellare con il mio nuovo ukulele bellissimo che ho chiamato Alanis Morissette per pranzo mi sono fatta una bella pasta con le lenticchie buonissima e poi pomeriggio ho fatto una corsettina una camminatina e quando sono tornata ho scoperto che ben and jerry mi aveva mandato un buono per i loro nuovi gelati vegani al latte di mandorle e quindi ho preso questo qui ed ho fatto un bel affogatino infine per cena mi sono fatta il mio curry al cocco con tofu patate verdure ed era veramente buonissimo è tutto qua spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti che cosa volete vedere prossimamente e noi ci vediamo alla prossima ciao